Io ringrazio sempre i trevigiani perché questo spirito di solidarietà è forte nella terra trevigiana e si dimostra anche in questo caso. Troppo presto per fare i bilanci ma questa settimana trevigiana chiude con due primati. Uno in Veneto per essere diventata la provincia con il calo più considerevole dei contagi e la percentuale più alta dei guariti. Il secondo in Italia per aver innescato la macchina più virtuosa nell'offerta e impiego del plasma iperimmune. Sta funzionando, le persone sono molto propense a donarlo chiaramente e noi siamo anche molto performanti nel numero di persone che riusciamo a prendere e acquisire da loro il siero autoimmune. Un siero salvavita usato in pazienti aiutati con la ventilazione o per i quali diventa necessaria la terapia intensiva. Conferma invece con molta amarezza il direttore Benazzi lo slittamento della campagna vaccinale ad inizio marzo per la popolazione per gli over 80 prevista invece per inizio febbraio a causa del taglio delle dosi Pfizer destinate al Veneto. La nostra regione insieme ad Emilia Romagna e Lombardia è stata la più penalizzata come si legge nella nota del commissario Arcuri per circa 25.000 dosi. Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria e Val d'Aosta sono invece le uniche regioni che non avranno tagli nella distribuzione. E questo è un peccato perché la macchina era partita, era molto performante tant'è che il Veneto è tra le prime regioni d'Italia per numero di vaccinati. Ora c'è grande attesa per l'arrivo dei vaccini Moderna per accorciare il gap di almeno 20 giorni. Noi siamo assolutamente in grado, abbiamo creato una macchina organizzativa che è disponibile anche a lavorare H24 nei palaverdi, nelle strutture che le province e i comuni hanno messo a disposizione. Basta che i vaccini arrivino, cioè noi siamo condizionati purtroppo dall'arrivo dei vaccini.